Sì, perché? Tu dici che quel tuo metodo fosse quello per essere quello di una volta? Io sono Kirill, un canale, con il mio messo di sovietici, potrebbe essere il grande fighter di sempre. Niente, niente. Ok, Kirill, proviamo. Ok, Kirill, proviamo. Il cancio, non c'è più. Niente, tu allena. Il cancio, non c'è più. 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 Quiere bucchialenco Quiere bucchialenco Nel vostro giugno è sempre tecnica prevale, forza brutta, io quando mi allenavo in batti cabroschi, forza sovietica prevale tecnica, forza prevale tecnica. Non ho più nulla da insegnarti, Andriusica, ora tu vai per tua strada e porta con te sempre il metodo sovietico, fer, ket, forza prevale tecnica. Abbedanio.